Questa sto pischello che non sarà la prima, l'ho letto tipo da un mese che in chat da me scrive Ti amo Carmela Forza Napoli Carmela sei una donna fortunata e io un uomo molto sfortunato Cioè ha portato il Sella, prendi tre pere dal Napoli, gli ho dato 10 minuti di time out, tre pere davvero Ciao